Ho un grosso numero di titoli di Stato americani degli anni 30, come posso riscattare il valore? È la domanda che si è sentito a rivolgere un avvocato di Belluno da un misterioso potenziale cliente che diceva di possedere bond a stelle esterisce per milioni di dollari. Quei titoli, però, erano soltanto dei falsi ben realizzati. Siamo nel 2016, l'avvocato rifiuta il mandato e, fiutando una vicenda poco chiara, informa i carabinieri. I militari del nucleo antisofisticazione monetaria iniziano ad approfondire, trovando una sponda in un commercialista che era stato contattato dallo stesso uomo. Il possessore dei vecchi titoli di Stato si presenta nello studio con la moglie filippina, ma all'uscita trova i carabinieri interessati a fargli alcune domande. Ai militari, l'uomo spiega di essere in possesso di bond per 500 milioni di dollari e di non avere dubbi sull'autenticità dei documenti, ma solo sulla loro validità a 80 anni dall'emissione. Ma chi è questo misterioso detentore di titoli di Stato? L'ingegnere marchigiano Rinaldo Lampis, già presidente dell'Associazione Piramide dell'Asia, finita nella rete dei carabinieri di Padova per associazione per delinquere finalizzata alla truffa gravata e continuata. Era il 2002. Ci furono nove arresti per una storia di finti guaritori filippini. Le Filippine ritornano anche in questa storia. Lampis spiega che quei titoli di Stato emessi a Cleveland dalla Federal Reserve nel 1934 sarebbero stati consegnati alla moglie dal padre, che era un ammiraglio della marina del paese asiatico. Quei titoli, prosegue l'ingegnere, erano stati emessi come pagamento per un prestito di guerra. Gli Stati Uniti avevano ricevuto 7800 tonnellate d'oro e in cambio avevano consegnato i bond. Nel 2010 Lampis va in Svizzera per cercare di riscottere titoli per un milione di dollari, ma viene arrestato per falso e rilasciato dopo pochi giorni. Nel 2016 ci riprova in Italia. I carabinieri chiedono una perizia con l'aiuto dei colleghi americani. I titoli sono effettivamente falsi. In questi giorni le prime udienze sulla vicenda con imputazioni legate all'immissione di valuta irregolare in Italia. Probabile che l'ingegnere stesse cercando di certificare da qualche professionista la validità dei titoli in modo da poterli depositare in banca per utilizzarli come garanzia per eventuali investimenti. Difficile dubitare dell'affidabilità finanziaria di chi in banca ha titoli per milioni di dollari.